Ottanta finestre aperte sull'immenso, questo è il significativo titolo di un progetto varato in occasione del cinquantesimo anniversario dell'inaugurazione della concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, coinvolti anche gli studenti di sei classi, terze e quarte, del liceo artistico Calò, attraverso un seminario che ha voluto accendere i fari sull'architetto Gio Ponti, inventore della modernità, che ha realizzato il progetto di una delle più belle e apprezzate opere del Novecento. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, questo il tema del seminario tenutosi all'interno della concattedrale, alla presenza tra gli altri dei referenti del liceo artistico Calò e del parroco Monsignor Ciro Alabrese. Al progetto ha partecipato anche l'associazione di volontariato Amici di Manaus. I ragazzi sono incuriositi perché all'inizio loro pensavano forse che la concattedrale era soltanto una parrocchia, una chiesa, ma così non è. È un monumento da conoscere, da scrutare, da riflettere. Per cui stiamo dando l'opportunità ai ragazzi che hanno accolto questa proposta, questa proposta con molto entusiasmo. Con entusiasmo perché hanno voglia di conoscere proprio in questo momento che loro sono a casa da quasi un anno in DAD. Abbiamo voluto intanto aiutare gli studenti attraverso un processo di apprendimento a riconoscere e comprendere il significato anzitutto ecclesiale e poi anche culturale della concattedrale come non soltanto monumento architettonico ma anzitutto come comunità cristiana che vive all'interno appunto della società ionica. Questa disponibilità ad aprirsi all'immenso nell'incontro con il Signore Gesù risorto e nello stesso tempo con la disponibilità ad accompagnare gli uomini e le donne di oggi a partire proprio da quelle che sono le loro fragilità e i loro bisogni.